A Briciclo del Tessile è presentato il progetto che si candida per i finanziamenti del PNRR, non mancano le polemiche. Luca Giusti confermato presidente di Confartigianato e ha il suo terzo mandato, eletta anche la nuova giunta. Donna picchiata e rapinata da due uomini in centro mentre stava tornando dal lavoro. Buonasera dalla nostra redazione è presentato il progetto del Lab del Riciclo del Tessile che si candida per i finanziamenti del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma non mancano le polemiche anche all'interno del PD. Bifoni lancia un messaggio ai suoi. A 14 giorni dalla scadenza del bando per i fondi non è possibile galleggiare. Tra gli addetti ai lavori lo chiamano già Cenciaiolo 4.0. Parte infatti dalla tradizionale sapienza dei Cenciaioli pratesi, trasformandola in un sistema altamente digitalizzato, Lab del Tessile che l'amministrazione comunale ha candidato come progetto per ottenere i finanziamenti europei del PNRR. L'impianto che sarà realizzato e gestito da Alia su terreno di proprietà comunale in via di Baciacavallo consisterà in un capannone di 7.800 metri quadrati che selezionerà gli indumenti idonei al riutilizzo e alla successiva emissione nel ciclo produttivo. A fronte di una prima cernita manuale per l'estrazione di bottoni e cerniere, gli indumenti passeranno sotto dei sensori ottici capaci di riconoscere e differenziare i tessuti per tipologia di fibra tessile e colore con una potenzialità di trattamento di 4 tonnellate l'ora. La capacità di trattamento dell'impianto sarà di circa 34.000 tonnellate annue di rifiuti tessili. Il costo complessivo è di 18 milioni di euro di cui si punta a finanziarne 2,5 col PNRR. Il resto è investimento pubblico e Alea assicura l'Hub si farà anche se il progetto non dovesse essere ammesso. Prato l'ha sempre fatto, io non credo ci sia altro luogo se non qui dove si possa portare a livello scientificamente più avanzato il lavoro che i nostri scienciaioli hanno sempre fatto negli ultimi 150 anni. Quindi abbiamo il dovere, proprio perché vogliamo investire sul nostro futuro, di provarci. Poi non sarà facile, è un bando nazionale, non sappiamo chi parteciperà, non sappiamo quelli che saranno gli esiti. Ma certo è che se non ci scommette Prato, se non ci investe Prato sul proprio futuro e non ci investe un tipo di infrastruttura del genere, francamente non saprei chi lo dovrebbe fare. L'Hub si candida come struttura di riferimento per la selezione e il riciclo degli indumenti della Toscana e dell'Italia centrale. Dieci mezzi pesanti previsti, quindi con un minimo di 20 corse giornaliere. Il capannone conta di dare lavoro a 50 addetti e sorgerà più precisamente in un'area di 21.000 metri quadrati. Una parte già in uso ad alia, come deposito di bidoni della spazzatura, un'altra parte attualmente occupata dai campi da calcio del Paperino che saranno spostati in via Lille. Questa localizzazione, che ha vinto contro altri 13, dove le abitazioni sarebbero state troppo vicine o ci sarebbe stato rischio idraulico, ha fatto storgere la bocca ai comitati di Fontanella e Paperino, ma ha suscitato malumori nello stesso Partito Democratico. Durante la presentazione del progetto in Salone Consiliari, Biffoni ha lanciato un messaggio chiaro ai suoi. A 14 giorni dalla scadenza del bando per il PNRR, i ma equivalgono a no, non è possibile galleggiare. Siccome questo è un documento che è lì da più di un anno, tra un po', che è stato presentato pubblicamente, c'è un lavoro alle spalle, la politica invece sa di cosa si sta parlando e francamente ecco, in alcuni casi sostenere sì io lo voglio fare ma diventa difficile da comprendere, questo sì, fatemelo dire. Un impianto a impatto zero sull'ambiente, precisa il presidente di Alia, Nicola Ciolini, a proposito del lab del riciclo del tessile. Il candidato per i fondi messi a disposizione dal PNRR è anche il polo di essiccamento dei fanghi trattati da Gida in fase di progettazione esecutiva. Un enorme passo avanti nel mettere in pratica quelli che sono i principi dell'economia circolare attraverso quello che a Prato è sempre stato fatto da anni, cioè scegliere, selezionare gli abiti e a questo aggiungerci una parte innovativa che tra l'altro ha sviluppato Tecno Tessili per eliminare la parte plastica di elastomero dai filati in modo che questi possano essere riavviati all'industria. Oggi buona parte di questo materiale invece va a smaltimento, quindi credo che sia un enorme passo in avanti. L'impatto di questo impianto è zero perché è tutto un trattamento meccanico e questo naturalmente richiede anche degli investimenti ma che sicuramente a lungo termine avranno anche delle ricadute positive, sia per i cittadini sia per le imprese e naturalmente avranno sul proprio territorio della materia prima nuovamente da lavorare. Investimenti da parte dei cittadini, una prima parte? Investimento falia, questo è un intervento che non ricade in bolletta. Non solo Abdel Tessile ma anche le sticcatorie di gira, cosa serve, quanto costa, potrebbe essere finanziato al 100%? Sì esatto, questo è un progetto che era già previsto nel piano complessivo di rinnovamento dell'impianto di Bacia Cavallo. È un impianto che serve a asciugare gli scarci della depurazione delle acque, i famosi fanghi di depurazione, trasformando 10.000 tonnellate di fango secco l'anno in meno di 3.000 tonnellate di fango secco. Quando è uscito il bando ci siamo accorti che rientrava in una delle linee finanziabili fino a 10 milioni di euro, il nostro impianto costa tra i 7 e gli 8 milioni di euro, quindi rientra pienamente, quindi siamo fiduciosi, avendo già un progetto stato avanzato, di poter riuscire a ottenere queste risorse. E non sono mancate le prime reazioni alla notizia della realizzazione del Lab per il Tessile. Se CGL e Cisle Will salutano con favore il progetto, il Comitato Prato Sud protesta e Fratelli d'Italia accusa l'amministrazione di aver scelto l'ubicazione senza consultare il Consiglio Comunale. La futura realizzazione di un hub per il riciclo del Tessile ha diviso la città tra favorevoli, contrari e favorevoli con riserva. A salutare con soddisfazione il progetto sono CGL e Cisle Will. È un primo passo che candida Prato a essere rinnovata protagonista nel nostro paese, con uno sguardo nella logica europea, dicono i sindacati, per i quali il progetto dell'Hub può e deve offrire anche nuova occupazione, stabile e di qualità, con la creazione di nuove competenze. Di opportunità ha parlato anche l'imprenditore Tessile e consigliere delegato di Confindustria Toscana Nord, Francesco Marini. L'Hub Tessile farà fare un passo nel futuro al distritto Tessile, da un punto di vista di cominciare a investire sull'economia circolare. Vuol dire anche trovare delle sinergie con gli impianti esistenti sul territorio per poter fare quel passo in più a cui ci obbliga l'Europa per poter tendere a quel 100% di riciclabilità che ci sta chiedendo in un'ottica futura. Un no forte all'opera, soprattutto per la scelta dell'ubicazione e del mancato coinvolgimento dei cittadini, arriva dal Comitato Ambientale Difendiamo la Nostra Salute Prato Sud. L'ennesimo passo verso la definitiva rottura di un equilibrio ormai precario, scrive il Comitato, quando la finiranno di martirizzare le frazioni sud di Prato. Con quale arroganza la classe politica impone le decisioni prese nelle segrete stanze, eludendo e calpestando ogni principio normativo sulla partecipazione della popolazione, si domanda il Comitato, che poi aggiunge come da tempo i cittadini delle frazioni sud di Prato hanno fatto presente la situazione da loro definita insostenibile dei luoghi in cui vivono. Siamo il terzo mondo di Prato, aggiunge con amarezza il Comitato. C'è poi la posizione dei fratelli d'Italia, con i consiglieri Cocce e Belgiorno, che si dicono favorevoli all'opera per i benefici che porterà la città, ma contrario alla scelta del luogo e per il mancato coinvolgimento dei residenti e del Consiglio Comunale. Non sono bastate le proteste negli anni dei cittadini e dei comitati nella zona di Baciacavallo, dove le amministrazioni di centro-sinistra hanno permesso questa vicinanza e promiscuità tra aree industriali e abitative. Ora si annuncia la creazione di un nuovo impianto che impatterà ulteriormente in quelle zone, scrivono i consiglieri. Il PD e il sindaco hanno scelto il sito per questo progetto durante una riunione di partito. I percorsi partecipativi e il Consiglio Comunale sono stati scavalcati. Lamentano Cocce e Belgiorno.